La società giallorossa avrebbe fissato altre due precedenze. Si tratta di giocatori di serie superiore su cui il Benevento vuole puntare. Messo in stand-by, braiati insieme al Frusinate, Bisio e Aditacchio, si punta su Manolo Pestrin della Salernitana. Quest'ultimo, nato a Roma il 30 ottobre del 1978, ha iniziato la sua carriera nei campi di periferia della capitale con la Roma Alessandrino, prima e con la Pro Calcio poi. Nell'estate del 1992, a soli 13 anni, entra nelle giovanili della Lazio, restandovi per una sola stagione. L'anno seguente la famiglia si affida allora al settore giovanile della polisportiva Monte Rotondo, con cui avrà la sua crescita calcistica, tanto da debuttare tre anni dopo nel campionato nazionale di lettanti. Alla fine della quarta stagione consecutiva, con il Monte Rotondo, nel 1997 approderà nel calcio professionistico. L'occasione gli viene offerta dal Castel di Sangro, con cui debutterà in Serie B nella stagione 97-98. Retrocesso subito in Serie C1 rimane per altre due stagioni tra i giallorossi. Nel 2000 passa al Lanciano, dove disputa due campionati in C2 e C1 da titolare. Nel gennaio del 2003 viene acquistato dal Palermo, con cui gioca quattro partite nella seconda metà del campionato di Serie B. La stagione successiva torna in Serie C1 nel Cesena, con cui conquista subito la promozione e disputa due campionati di Serie B da titolare. Nel gennaio del 2007 viene preso in prestito dal Messina nel mercato di riparazione, con una clausola di riscatto totale del cartellino a fine stagione. Esordisce in Serie A in Messina-Roma del 14 gennaio 2007. Al termine della stagione, dopo 16 presenze nella massima divisione terminata con la retrocessione in Serie B, la squadra peloritana riscatta totalmente il cartellino. Dopo la seconda stagione, con la maglia dei siciliani, firma nel 2008 con la Salernitana un contratto biennale. È rientrato dal prestito al Torino, dove è approdato a gennaio disputando 15 gare che vanno sommate alle 15 con i Granata. Il Benevento però deve battere ora la concorrenza della regina che sta trattando con il giocatore da qualche giorno.